Eccoci in diretta, allora come sempre partiamo con l'immagine che giunge dal Sagrato della Chiesa di San Pio da Pietrelcina e allora questa mattina siamo contenti perché abbiamo letteralmente strappato fra Pasquale e Cianci ai preparativi di questa giornata, di queste due giornate così intense e per questo ti ringraziamo. Buona domenica e pace bene. A te, buongiorno Leonardo, buongiorno Roberta, ben ritrovati, veramente ben ritrovati. Mi fa piacere vedervi già attivi nelle prime ore del mattino. Sì, bisogna essere svegli la mattina, se no è dura. E in effetti è così Fra Pasquale, sei qui con noi perché vogliamo e sappiamo che tante persone che ci seguono da casa vogliono sapere come procedono i preparativi perché saranno tutti collegati in diretto, oggi pomeriggio, tanti stanno giungendo, lo dicevo anche in apertura, giungendo in redazione questa mattina presto, ho visto già tante macchine, tanti pullman che insomma raggiungevano San Giovanni Rotondo e una giornata di festa per la comunità di San Giovanni Rotondo. Sì, una giornata di festa e cominciamo proprio da queste prime ore del mattino, immaginiamo proprio di prenderci un caffè insieme. Poco fa ho chiamato Fra Giampiero Montini che è un frate di Roma, un frate cappuccino, al quale ho dato proprio il compito di accertarsi che Don Fabio possa partire. Ah, ecco, ma siamo tutti in attesa di Don Fabio, perché siamo tutti... Penso veramente che Don Fabio sia, diciamo tra virgolette, un po' come una star di questa veglia, perché... Potrebbe essere la ciliegina sulla torta. Sì, perché la sua parola, lo sappiamo, è una parola molto forte, incisiva e soprattutto per i giovani. Arriva, arriva. Quindi ci auguriamo davvero che anche oggi, ecco, anche i giovani possano partecipare. Ma comunque i pellegrini, ecco, abbiamo voluto quest'anno dare un segno forte e una centralità all'interno della veglia alla parola. La parola, ecco, non una serie di liturgie una accanto all'altro, ma dare proprio una centralità alla parola. Un momento proprio di catechesi, che forse in altre situazioni, in altri anni non è mai avvenuto. E quindi questa è una novità di quest'anno. Sì, infatti, ricordiamolo, perché anche nei promo che avete visto poco prima di entrare in diretta con questo spazio, la veglia rispetto agli altri anni ha una formula diversa. Non svegliamo troppo, non so se... No, possiamo anche anticiparlo in modo tale che anche le persone, vedendola, possano essere anche preparati. Ecco, ci sarà un primo momento di accoglienza e di festa, perché il pellegrino va accolto. Eh, certo. Quel posto che si guadagna sul Sagrato è veramente faticato, perché la gente viene qui proprio per incontrare il Signore. E quindi c'è la prima parte, che è proprio un momento di festa. Ci sarà una Christian Band, My Soul Christian Band. E infatti ieri sera sentivamo musiche, canti, prove, si sentiva, c'era un'emozione straordinaria, bravissimi da quello che abbiamo sentito. Molto bravi, e sono dei ragazzi della diocesi, sono di Manfredonia, di Mattinata, di San Giovanni Rotondo. Ecco, si sono messi insieme da un paio d'anni e hanno formato questa band. E quindi noi abbiamo detto loro, vi va di animare, di dare il benvenuto ai nostri pellegrini, e ci saranno. Quindi ci saranno alcuni canti, sì. Abbiamo visto anche tanti frati giovani, che vengono un po' dalle varie province. No, sono i nostri frati studenti che studiano a Santa Fara, a Bari, e poi nel nostro post noviziato a Campobasso. E quindi oggi saranno tutti qui con noi, che bello. Sì, sono con noi, perché proprio in questi giorni della novena, loro vengono proprio per darci una mano, per animare. Senza di loro, ecco, non ci sarebbe questo volto giovane. Assolutamente, ma anche loro poi la vivono bene così, no? Sì, 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 sono molto contenti anche di partecipare alle liturgie e alle varie insomma azioni che si devono svolgere proprio in questi giorni. Insomma, oggi si respirerà molta aria giovane. Speriamo, dai. Ma sì, ma sì, ma sì. Anche perché, dobbiamo dirlo, il tempo aiuta, purtroppo abbiamo incrociato le dita per diversi giorni, perché insomma San Giovanni Rotondo... No, 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 vabbè, stando alle previsioni, insomma, ora non voler tirare troppo, però pare che, insomma, dovrebbe mantenere, speriamo. Speriamo, mantenere tutto. Speriamo. E un altro aspetto che volevamo sottolineare fra Pasquale, questa via Crucis, che verrà vissuta in una maniera un po' diversa, tra virgolette, rispetto a come siamo abituati. Diciamo che quest'anno abbiamo voluto un po' più dare spazio all'aspetto artistico, un po' l'arte, no? Quindi il canto, la musica, la danza, infatti è coinvolta anche la Casa dell'Arte, che ha sede a Mattinata, e questa casa è legata in maniera molto forte all'esperienza di Carlo Tedeschi, che sappiamo bene ha realizzato un musical famosissimo, Chiara di Dio, un fremito d'alino, la storia di Padre Pio. Ecco, i ragazzi della Casa dell'Arte accompagneranno le musiche e i canti della Christian Band con delle coreografie, e quindi anche questa è una novità. Poi accompagneranno e sottolineeranno alcune celebrazioni, come per esempio la processione eucaristica. Ci saranno questi ragazzi che spargeranno proprio dei petali di rose durante proprio la processione eucaristica. Bellissimo, quindi spazio ai giovani, l'adorazione che poi terrai tu, giusto? L'adorazione sì, è vocazionale, quindi in quanto responsabile la terrò io, sì. Belle, davvero molto bello quello che ci dici fra Pasquale. Vorrei sottolineare, visto che tra pochi minuti ti lasciamo, perché ovviamente poi alle 11, lo ricordiamo, c'è Monsignor Vittorio Francesco Viola che presiderà nella Chiesa all'Aperto. Questa felice ricorrenza, coincidenza tra l'evento delle stimmate di San Francesco, gli 800 anni che abbiamo celebrato il 17 settembre scorso e le stimmate di Padre Pio, e questo titolo emblematico, Dalle ferite, la vita nuova. Ecco, la veglia di Padre Pio è anche un momento per pregare per le persone che soffrono, per coloro i quali purtroppo vivono delle situazioni di disagio di qualsiasi tipo. si prega anche per questo tipo di situazioni. A San Giovanni Rotondo c'è una tradizione molto bella che vede accendere un cero sulle finestre proprio per ricordare questo passaggio dalle ferite alla vita nuova, direi. E allora Padre Pio ci accompagna anche quest'anno, in questa notte, che speriamo possa essere notte di grazia. Certo, anch'io ho messo il mio lumino alla finestra, sì. Ed è bella questa tradizione. Le ferite come feritoie, come diceva Don Tonino Bello, passaggi di grazia, passaggi di luce. Abbiamo voluto fortemente proprio mettere insieme proprio la figura di Padre Pio e quella di Francesco. Quindi il centenario dell'estimmate di San Francesco diventa occasione per noi per riflettere e vedere proprio come una cartina al tornasole anche l'esperienza di Padre Pio. Perché Padre Pio sempre si è definito un, lui diceva indegno, figlio di San Francesco. Noi oggi possiamo dire degno, degnissimo figlio di San Francesco. E quindi ci piace vedere proprio l'esperienza di Padre Pio dietro l'esperienza di San Francesco. Per questo anche quest'anno la presenza anche di tanti frati minori provenienti da Laverna. Ecco anche Monsignor Viola che è stato anche rettore e custode della porzione con la d'Assisi. Sì, sì, sono insomma figure importanti che ci aiutano a collegare le due esperienze. Noi l'abbiamo sottolineato più volte Fra Pasquale, non so se ci hai seguito. Sì, sì. Quindi abbiamo voluto in qualche modo anche rendere ancora molto più saldo il legame tra Francesco. Non che ce ne fosse stato bisogno comunque del nostro apporto, però San Francesco e Padre Pio racchiudono questa modernità forte. E poi mi ha molto colpito, e poi ti lasciamo, il fatto che Fra Guido Fineschi nell'intervista che ci ha rilasciato il Guardiano della Verna ha detto che troppe volte noi a Francesco facciamo dire quello che vogliamo, perché insomma anche è radicato in anni di storia. Però Francesco conserva questa modernità e poi ha un interprete, potremmo chiamarlo così, Padre Pio, che davvero ci aiuta ad attualizzarlo anche nel 2024, quasi 2025. Sì, io davvero in questi anni in cui mi sto occupando insieme con gli altri frati del servizio di animazione vocazionale, devo ammettere che non faccio molta fatica a cercare i giovani. Sono i giovani che ci cercano ma in nome di Padre Pio, perché proprio attirati dalla figura di Padre Pio la sua barba bianca è molto più giovane delle nostre brizzolate, veramente. Ma infatti Fra Pasquale tu appunto sei responsabile del servizio vocazionale, hai ragazzi presenti un Padre Pio, come dicono molti, burbero o Padre Pio della gioia, insomma? Sfatiamo un po' questo mito. No, no, Padre Pio non è assolutamente burbero. Il suo essere burbero deriva dal suo essere padre, che è diverso. Un padre necessariamente deve rimproverare quando un figlio sta prendendo una stata sbagliata. Quindi non a caso Padre Pio forse è l'unico santo, uno dei pochissimi santi, a cui la parola padre, cioè la parola padre proprio lo riveste. Non possiamo staccare questa parola padre dal nome Pio. Ma diciamolo che era anche insomma molto allegro. Lui, se non sbaglio, raccontava anche le barzolette ai frati, vero? Certo. Per tenere sul morale. Certo, i frati, ed era, aveva anche un'intelligenza molto arguta e faceva proprio delle battute davvero molto sottili e intelligentissime. Ecco, quale esempio. Sì, sì, sì. È di una delicatezza anche unica. Bene, Fra Pasquale, allora noi ti lasciamo ai tuoi impegni e ti ringraziamo per averci dedicato un po'. Abbiamo voluto proprio all'inizio della mattinata in maniera tale che poi potessi in qualche maniera organizzare il tutto e ti auguriamo una buona festa di San Pio. Grazie. A voi buon lavoro e buona festa. Grazie, grazie di essere stato con noi. Grazie di cuore. Andiamo in pubblicità. Grazie a tutti.